appena quando lo spalmi si adatta è molto leggero come fondotinta lo vedo è rilassante molto stupendo non mi ha messo un minuto però come si dovrebbe fare? allora questo video è stato gentilmente sponsorizzato da HelloFresh HelloFresh è una box di ricette super gustose e sempre varie che arriva direttamente a casa tua con ingredienti freschi è una box in cui vi arrivano tre, quattro, cinque ricette a volta scelta potete scegliere tutto il momento in ordine per due o più persone non vi arriva il piatto già pronto ma vi arrivano ingredienti freschi locali di alta qualità giusti e anche con le porzioni giuste per preparare piatti sempre diversi sia della cucina tipica italiana sia delle cucine internazionali per fare poi ci sono qualità che Nella box che mi è arrivata ho scelto queste chesadillas che erano veramente buonissime Mio marito ha apprezzato tantissimo e ovviamente anche io siamo due buon gustai E' un abbonamento settimanale e flessibile quindi si può sospendere se non riuscite una settimana E si può scegliere in base alle proprie esigenze la giornata e l'orario di consegna Sono disponibili ogni settimana una scelta fra 12 piatti, fra vegetariani, di carne o di pece Io ovviamente ho scelto quelli vegetariani e perché mi piace tanto? Perché personalmente molte volte trovo maggiore sempre le stesse cose Non ho fantasia, non ho voglia di pensare e con questo servizio io senza sforzo ho tutti gli ingredienti pronti La ricetta pronta e devo solo assemblare e voilà una cena o un pranzo Fantastico! Può essere carino se non siete magari troppo bravi a cucinare e volete sorprendere qualcuno Con una cena fatta in casa può essere carino per avere un piatto più particolare Dei piatti più particolari durante la settimana per provare nuovi gusti e nuove ricette Senza non andare a cercare gli ingredienti di qua e di là Il mio codice sconto, segnatevelo, è Chiara Chef, tutto maiuscolo, tutto attaccato E vi lascio il link per ordinare la vostra box qui sotto in descrizione E vi ringrazio come al solito anche dell'avvitucia che ponete nei miei consigli E ringrazio anche Lofresh per aver sponsorizzato questo video Ciao! Grazie di essere qui con noi oggi Ciao a tutti! Oggi io proverò, diciamo così, a truccare la Carly con i suoi prodotti Vediamo cosa ci salta fuori E quindi cercheremo, insomma cercherò di truccarla al meglio che riesco Quindi magari mi avvicinerò, mi vedrete in maniera un po' così Però va bene così Spero che per voi sia rilassante anche da guardare Quindi iniziamo Guardate il primer, posso metterlo con il pennello? Allora la Carly, sono tutti i prodotti della Carly La Carly è questo primer di The Ordinary Allora La metto un pochino Ti ho dato così? No? Così va bene Ok La metto un pochino E vado Io non penso di possedere neanche un primer A me piace perché sfuma molto meglio il fondotinta La riesce a spalmare benissimo Cioè la metti di farlo un attimo tipo assorbire dalla pelle Come se fosse un'altra crema, ecco Un'altra strata E poi passiamo al fondo del suono E questo è il video dei The Ordinary La musica nude Della Slyce Lane Nella colorazione Penso sia la più chiara o la seconda A me piace Una V Una V Deve un po' citarlo prima Ho paura di fare un bello Ma lo metto rettamente sul sito Sì Ammetto quasi male il fondo Io solo di sera perché di giorno Se devo tenerla mascherina Se non scordo No Cerco di spalmarlo al meglio Che Non mi è mica la cita per metto Ok All'inizio non sembra del tuo colore Però effettivamente sì Lo diventa già pian piano Quando lo spalmi si adatta È molto leggero come fondotinta Non copre tanto però A me piace più così Più naturale Sì Se voglio coprire Copro poco il correttore Non vuoi che mi giri? Non vuoi? Vai di un rinchi La forma di cuore Sono voi? Sono un regalo dell'Alessia Ah che carino Per cosa? Per Natale Ok Lei si è stati guardando questo video Ma qui c'è stata una strisciata Ok E poi anche un pochino Ancora qui Non penso ci sia bisogno di specificarlo Però fai un po' Grazie Non penso ci sia bisogno di specificarlo Però io lo dico Comunque Non ho mai neanche fatto un mezzo corso di make up Cioè mi tocco Ma Truccare gli altri è tutta l'altra cosa Quindi Posperiamo bene Non ho nessuna pretesa Infatti sarà una cosa semplicissima Non so Non so Ma è come se ti truccheresti tu Una mattina che ti svegli Sì sì Ok Te lo senti bene? Molto Bene Andiamo ancora Questo della Ives Allora Ok Così Vai E vado a metterlo Un po' così E questo provo Vado solo a spugnetto Spero di non farti male No tranquillo Ok Ok Non so Quanti ombretti Osserò Secondo me Ti faccio giusto Sì Un ombrettino Chiedi E il Magari l'eyeliner Con il pennello C'è il pennello C'è l'inco Lì Io non riesco a farmi L'eyeliner Come fai tu Allora Faccio l'essere Non si può dare le occhi E Non si può dare qualcosa Poi tirare Sì Sì Faccio Vedi L'eyeliner Un ombretto 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 poi non dobbiamo mandare misura da nessuna parte ecco manda la pallana truccata da me no? distruggere ma va ah vedi ci no però non è molto finito devi avere proprio quello secondo me tipo io uso quelli per la sopracciglia ok se no anche questo no no va bene vabbè tanto faccio l'ombre per adesso come occhio questi si come matita se vuoi la matita questa che mi hai dato tu bellissima è molto bella invece lo so come questo tira fuori tantissimo nera blu solita che uso sempre io e poi verde ok faccio l'ombrezzo che poteva da pericolo e allora adesso e allora adesso questo è un po' lenti no? eee di ora c'è anche il primer è fighissimo questo 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 me l'ha regalato la nostra amica Lella per il per il esatto ce l'ha regalato me l'ha regalato per natale ce l'ha regalato ok tutte allora vado a usare questo ok in realtà in realtà le ho regalato quasi tutta la palpa però è così soddia se abbia la pagina non penso di aver mai forse truccato una volta per tipo gioco ma sarà stato minimo minimo 10 anni fa no di più ero proprio adolescente quindi 10 anni ti ha avuto una schifo vabbè ma adesso sei brava alla fine pratica quando ti trucchi tutti però sai alla fine truccare le altre persone vabbè per fare queste cose ti può anche stare pro no un trucco l'operato è difficile ma no poi secondo me più che altro però devi anche saper valorizzare il viso delle persone così ti sto facendo quello che farei su di me ma non è perfetto per il tuo tipo loggio di viso di occhio eccetera però questo è questo ci teniamolo fammi prendere questo sono bellissimi quei colori no è veramente la tua è com'è rilassata? molto è stupendo vorresti giocare è molto rilassata e sentire il pennello ok sì è buono e spero si siente un pochino il mio proprio rumore del pennello no sì sì apri sono soddisfatta devo dire la prima è muta anche tipo questo bello bello resto per ok mi metto mi sono mai tutti i pregantini ok tranquillamente questa è la prima è stupenda è bellissima è bellissima ovviamente i bag sono stupendo inutile hanno mandato ma si è tranquilla anche la cipria è molto bella non mai il packaging perché è quella di Estée Luther molto bella anche quella sono molto bella allora adesso uso questa mattetta di mesauta che mi hanno inviato che è si chiama ruby ed è un colore borgogna si viola rosso che esala tantissimo il verde che è ho deciso che metto chiudere gli occhi lo metto un po' tipo così ti fa male lo scatto un po' sulle ciglia e poi cerco di allungarlo un pochino ma neanche troppo perché l'ho provato con questo pennilino lo scuolo e tipo sfumo e poi sfumo verso l'esterno e mi fanno un po' anche proprio prenderlo sulla matita e sto facendo un po' non mi faccio io apri gli occhi per vedere questo bello e te lo misco con un pochino aspetta lo so non si mettono le mani in faccia le persone e vabbè o almeno dovrei usare i guanti ok dopo lo sfumiamo apri gli occhi molto bello però lo devo correggere con il correttore è stato un po' oltre ok allora la parte degli occhi è più rilassante secondo me bellissima più che altro che quando è delicato beh per truccare deve essere delicato sempre forza se non fai dei segnacci bruttissimi quindi con questo pennello se ne trovo un altro te lo do perché è proprio comodo ma ci puoi sfumare anche gli ombretti infatti puoi sfumare quello che vuoi con la mia marca e da quando l'ho scoperto proprio le liner adesso mi hai imparato mettermi le liner anche normalmente beh tornati bene mi sono migliorato sì apri bello sono molto diversi ma sono belli allora questo lo alzo un po' e poi vado con il correttore che ho svolgato tantissimo va bene? questo è quasi finito sì, quello lì è poi no, chiudi allora apri dai sono anche abbastanza soddisfatta dopo la carne non si è ancora vista è pronto ora la carne ho tre ne ho tre ne ho tre allora questi due sono di brush sono molto simili questo qua sta un po' per finire questo invece è molto nuovo è volumizzante invece ho preso questo della Kiko che è tipo che è tipo ah, ci sono due no sono due effetti diversi in due scofonini diversi qua c'è il volume che è così e invece dall'altra parte c'è quello allungante e tipo che è iniziare mi fa fare un po' per 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 quando mi faccio del pulso mi fosonare è che cosa che voglio fare ok metterlo un po' per 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 se proprio io in un bracetto tardi faccio allora qui non so cosa bisogna fare con gli occhi devi tenirli ah no no la sentivo quando è un po' per ok sai che non riesco bene a distinguere le ciglia sotto le ciglia sopra non si capisce vabbè tu hai delle belle ciglia quindi anche se ti metto il mascara un po' trammare mamma ma magari stai usando ancora l'olio di cosa so l'olio di ricino l'ho usato per un periodo ma adesso non l'uso più da un anno no però cavolo non lo sogni me ne sogni queste ciglia proprio dici? si mamma mia no guarda che sono lunghissime carni sono contenta che mi dici questo molto sottili perchè ho paura però ho paura che apri un attimo che voglio capire no tipo medio sei tipo quando tipo così no però tipo c'è con occhio aperto ma tipo no abbassa l'alto ma l'ibasso così no più o meno mi piace apri l'occhio tipo medio no no io ho paura che truccandomi sempre tutti i giorni ho paura di di perderne tante ma secondo me più che altro il fatto di struccarselo bene no quello sempre bene delle volte se vedo che non mi sento super struccata uso l'acqua micellare anche tu puoi avervi sfruttato si per esempio il mascara apri l'occhio si diciamo che il mascara guarda no il mascara potevo fare un lavoro migliore ma è difficile è difficissima è difficile allungare verso l'alto perchè di solito mi prendo qui e tipo ecco mi prendo qui e faccio tipo quasi tipo mi prendo qui e faccio così tipo tipo vabbè da te non riesco a farlo ok però di solito per me per me lo faccio e funziona un sacco io conoscendo un carro c'è una luce mi sento mi sento tornata tipo alle medie scusa vabbè vado poterlo ma da piccola vi riservo per forza truccare c'è un'amica che voleva truccarci tutte io le si si fai fai che bello io voglio tornare ci troviamo la sera a farci i grattini madonna si per poi così per farci i grattini a vicenda mamma guardi un film tuo marito non te li fa non li so fare poi le occhie corte immagina ma non è neanche quello il problema anche perché era piccola è le grighe però te li fanno lo stesso il problema è proprio non solo una sensibilità non è capace quindi ho fatto un grumo unico vabbè alza anche io sto via perché dopo faccio solo questo però devo dire che sai che pensavo di truccarti molto 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 bello perché non è vero se ti trucchi sempre bene anche tu insomma sono migliorata ma beh ma è tutta pratica alla fine scrivete nei commenti che brava motivatela fatemi contenta mamma questa è la piacca le ho presi insieme si ti ricordi gli altri li ho tutti bello che bello con il sito gli altri li ho portati perché sono vecchissimi mi ricordo regà faccio un suono pazzesco ti ricordi io? ah si mi ricordo perché siccome ho avuto il canale smr questo è un po' troppo caldo che è un po' troppo caldo vabbè faccio ma quella è lucida ah no guarda che non ti vedo lucida per niente cioè se tu senti fastidio no però che non ti vedo per niente lucida non mi ha messo un minuto però non lo so come si dovrebbe fare? ah la quella quella è terra cosa stai mettendo? ah beh si ti metto un tipo vabbè non la metto mai perché? ma non lo so di solito metto un po' di blush ti metti anche poco blush però beh ne metto poco si mi piace tantissimo perché secondo me scolpisce un sacco soprattutto quando hai i i capelli tipo sciolti che si vede solo un pochino e mi piace un sacco però oggi ad esempio mi sono fatto comunque con i capelli legati vabbè non sono la persona che se lo fa meglio al mondo probabilmente me lo faccio un pochino anche troppo basso eh no ma è difficile dovete sapere che io ricevendo tanti trucchi eh e poi non sanno sempre i stessi colori un po' nute eccetera tutti quei colori un po' troppo rosati si mi fanno scolto poi mi fanno impazzire e la carne ogni volta esce con un bottino tu sei quella che esce col bottino più si poi sono anche quella che ti aiuta di più si no poi sei quella più appassionata di me che ovviamente si c'è le altre non vogliono quasi mai niente si mia sorella non si trucca mai neanche non si mette neanche più fondotinta neanche i mascarli per solo di non truccarsi così perchè io starei malissimo e anche l'altra nostra amica bello quel colore anche bello anche io ce l'ho simile bello però non ho scelto Venezia anche lì ne avevo comprato di Dior io sono della serie pochi trucchi ma buoni perchè poi ti durano e sono di qualità no anche bisogna capire qual è il prodotto che useresti si io sono anche per certe persone che si comprano due ombretti singoli usano quelli è bella si ma sai che sono soddisfatta stai benissimo si ti lo giuro allora un rossetto eh si come l'illuminante si lo vuoi io non lo metto mai però provo io mi ricordo perchè non posso che le leggi qualcuna volta me l'hai presa ma lo sono trovata ho trovata qui per me per me onestamente no questo verde si è si è spaccato maledizione secondo me secondo me per te è molto raproposo e si considera luna proprio nello spazio stupendo guarda dopo che ho visto Euphoria i brillantini e lui l'illuminante mi piacciono un sacco e beh si ma guarda io ti influenzano un po' soprattutto fanno dei trucchi in quella serie pelli pazzeschi ok ok questo bello questo vedi mi salta il numero 108 classic tipo una mano molto scura non capisco mano un po' caldo si quasi tendente al fucsia però caldo questo non so come spiegarlo mi sembra quasi un po' mi pare a dire un po' sulla mia mano così si vede si o è un rosso estremamente desaturato non lo so non lo so a me piace molto si molto bello non so come si mette il rosso insomma devi aprire le labbra di più di più e vabbè dopo apri apri stendi le tipo stendi 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 è la cosa in cui sto facendo più schifo carli sto veramente facendo pena aspetta andiamo se non puoi anche picchiettarlo questo è un po' di make up sarà inurlitento proprio sarà già svenuto ma è proprio difficile fai proprio te lo giuro è difficilissimo assurdo ma è molto bene come la storia ha quello che è molto bene come la storia 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 questa è molto bene quindi va come la storia un po' ma fa molto effetto sembra di tipico colore tipo labbra coreane non so come dire aspetta più o meno ti giuro stai messo adesso sono attenta ma lo saprei che al cellulare qui? si guardati dai wow ma che bello è stato così cioè secondo me non ho fatto un attivo lavoro è stata molto brava mi piace la ria così allunga sembra bella affinata io non sono capace a farmela così io mi trucco ma guarda che ci vuole col pennello col pennello aiuto si 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 bene allora io spero questo video che vi sia piaciuto che mi ha intrattenuto veramente pensavo di fare molti più danni invece non ci sono riuscite dai incoraggiatela nei commenti si ditemi onestamente con cosa ne pensate cioè devo dire sono molto soddisfatta anche a me piace molto vedi lavoro anche te va bene ok te lo ricordi tutto nel questo ancora un primo si vai con la maestra che mi guarda penso proprio penso proprio penso proprio proprio penso proprio penso proprio 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 che sia giunta l'ora di abbassare le luci 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 buonanotte 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 Sogni d'oro Inghilese, tedesco Good night Good night Good night Sweet dreams Sweet dreams Bonne nuit Bonne nuit Je rêve Je rêve Bonne nuit Comment ? Leganost 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 We can expect Buonanotte Pasticcini 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 Adesso lo mette da Ok Buonanotte Pasticcini Il pigne di pistacchio Calisvera Calisvera Con Let's색